Interrompiamo il programma per presentarvi Sarete tutti soggetti a una punizione anche se avete sconfitto Stain BAU Salvare le persone è il compito degli eroi Lo so, tranquillo Infatti era tutto uno scherzone BRAVI Cambia la tua idea di balsamo con pantè lisci e effetto seta Davvero? Wow Midoriya ci vediamo a scuola che poi mi racconti Oh ma è il tuo fidanzatino? Ho appena parlato con una ragazza al telefono La mia stupidità mi ha rovinato la mano E finché non sarò un eroe non l'aggiusterò Perché? Perché sono stupido È quasi come se quando ci sono di mezzo io le mani facciano una brutta fine Potrei chiamarmi Hang Crusher Il video con gli ideali di Stain ha fatto più visualizzazioni di un video di Favij Questo è un problema perché i cattivi possono interpretarlo come un messaggio da parte dell'unione dei super cattivi E quindi colui che ha organizzato tutto è lo stesso che ha ucciso il tuo predecessore Che ti ha fatto un buco nella pancia All for one è tornato Hai detto B1? Ho detto all for one E quindi il one for all All for one Non posso credere che sia riuscito a sopravvivere dopo ciò che gli ho fatto aspravvivere dopo ciò che gli ho fatto Non posso credere che sia riuscito a sopravvivere dopo ciò che gli video